ciao bella piantina mi vuoi raccontare qualcosa di te ciao sono la berretta del prete è un nome strano è sai perché mi chiamano così perché i miei bellissimi semi rossi somigliano proprio ai cappelli dei preti se non ci credi passa di qui in autunno e lo vedrai non mangiarli però perché per voi umani i miei semi sono velenosi ma merli petti rossi e cince possono farne delle scorpacciate senza problemi se mi pianti nel tuo giardino infatti arriveranno tantissimi uccellini sono un arbusto molto comune e resistente preferisco le zone soleggiate ma mi adatto anche alle zone meno esposte al sole non temo nel caldo torrido dell'estate nelle basse temperature invernali il mio legno è compatto ed elastico nel medioevo lo usavano per fabbricare gli archi alcuni mi chiamano anche fusaggine perché venivo utilizzata per fare i fusi con cui la nonna della tua nonna filava la lana ciao ciao ciao